Sono nato due volte, anzi tre. Arianna è un film che parla di identità e non soltanto di identità femminile, ma è di identità in genere e di identità di genere. In questo momento l'identità femminile e maschile, cinematograficamente parlando, sta cambiando. È in corso una vera e propria rivoluzione. Basti pensare a quelli che sono per esempio i grandi film come l'ultimo Guerre Stellari, in cui c'è un rovesciamento su chi debba avere il ruolo dell'eroe. Anche l'ultimo Mad Max affronta lo stesso discorso. Proprio perché il maschile e il femminile cinematograficamente stanno cambiando, Arianna è un film molto importante perché parla di una persona, non dico nemmeno una ragazza, che con questa identità di genere deve farci i conti. E insieme a lei siamo tutti noi a fare i conti con la nostra identità di genere, con come sta cambiando e su cosa diventerà.